Regole di pronuncia tedesca A differenza dell'inglese, il tedesco ha un insieme di regole molto affidabili che collegano ortografia e pronuncia. Se conoscete queste regole, potrete leggere un testo complicato a qualcuno e lui vi capirà perfettamente. Ora vi insegnerò le regole di pronuncia partendo dalle vocali. A E I O U A, E, I, O, U Ora le combinazioni di vocali. Ai Ai Oi Oi Au Au La Y può essere una vocale e si può leggere sia come I che come U. Ad esempio System Entrambi sono corretti. Ora diamo un'occhiata alle consonanti. Vi presenterò le consonanti a copie. Una è sonora e l'altra è sorda. Aggiungerò una A per pronunciarle più facilmente. Quando B, D e G si trovano alla fine di una sillaba, si pronunciano come P, T e K. A A La Ra Ma Na Ya E anche Ya Va Za Se la S si trova all'inizio di una sillaba, è sonora. Se è alla fine è sorda Quindi questo sarebbe Un'altra lettera che è esattamente come la S alla fine è questa E si chiama SZ perché storicamente deriva dalla combinazione di S e Z Si pronuncia anche S E non si trova mai all'inizio di una sillaba Questo è come in inglese E come K e S Di solito compare alla fina di sillaba come X Si legge fa o va Ad esempio La F dovrebbe essere l'opzione predefinita Si pronuncia W nelle praniore straniere o prestiti La C in tedesco di solito non sta da sola Si trova in combinazioni ma se è da sola viene letta come una K Ad esempio nelle parole di prestiti inglesi o francesi come In rari casi può anche essere letta come una Z Questo accade ad esempio nelle parole latine antiche come Ora analizziamo le combinazioni di consonanti Questo è Questo suono ha in realtà due pronunce a seconda della vocale che lo precede Una pronuncia che viene dopo A, O, U e AU è CH È un suono di gola Per esempio Per tutte le altre combinazioni è Ad esempio Non confondetelo con quello successivo È la stessa cosa di X E poi non confondetelo con questo Se si vede una CK Significa doppia K Che si pronuncia semplicemente come una K Ci sono poi due combinazioni di consonanti in cui la S può avere un suono diverso Se si trovano all'inizio di una sillaba la S viene pronunciata come Quindi è Ad esempio Parliamo ora della Q La Q non sta mai da sola Viene sempre accompagnata da una U e si pronuncia Q Ad esempio questo sarebbe Oppure si può dire anche così Vediamo alcune desinenze Questo qui, questo desinenza, si pronuncia Nel tedesco meridionale si dice Ma nel tedesco standard si dice Attenzione Si pronuncia Solo se è la fine della sillaba Se c'è una I O qualcosa del genere Si tratta solo della normale pronuncia Se una sillaba termina con una R La R viene pronunciata come una A corta Come A Ad esempio Se la disinenza è ER Però anche se ER non è sbagliato e sarebbe perfettamente comprensibile È più naturale abbreviarlo in O Per esempio La cosa successiva è la N e G È proprio come in inglese È un M Ad esempio DIN Assicuratevi di non dividere mai questo sonno in N e G In inglese è finger Ma in tedesco 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 è finger Se una parola termina con questa Tion Si pronuncia Sion Ad esempio Nazione Nazione La cosa successiva è che il TH in tedesco è proprio come una T Non c'è differenza Quindi non è come in inglese E poi c'è un PH che si pronuncia come una F Proprio come in Foto o Filosofii Esistono ora alcune regole per la pronuncia delle vocali Questa è una I lunga Anche questa è una I lunga È lo stesso E poi c'è questa Una H dopo una vocale Che è anche una I lunga La IE Funziona solo in questa combinazione Ma le altre funzionano per tutte le vocali I E A O O come questo I E A O Non pronunciare la H Significa solo che è una vocale lunga L'ultima regola riguarda la consonante singola A O doppia Qui ad esempio In questa parola C'è una N dopo la E Ciò significa che la vocale è lunga e lenta Se ci sono due consonanti dopo una vocale La vocale è veloce e breve Ascoltate il suono delle vocali quando vengono accorciate Avete notato che la E corta e la E corta hanno lo stesso suono? Infine c'è un altro suono vocalico Io la chiamo la E super corta Si usa quando una parola finisce in E Soprattutto se si tratta di un'terminazione grammaticale Si pronuncia Ad esempio Ecco fatto Con queste regole potete leggere correttamente il 99% del tedesco Le eccezioni sono di solito parole straniere In particolare dal francese come RESTAURANT O in inglese come SERVICE E se dopo questo video Leggete un testo ad un vostro amico tedesco? Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione